Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Il famoso cantante Gianni Morandi svela finalmente il perché le sue mani siano così grandi Le dimensioni cielano una verità toccante. Ecco tutti i dettagli a riguardo Gianni Morandi Mani Gianni Morandi Mani.In questi ultimi mesi sono molte le voci che circolavano sul suo conto Svariati fan infatti si chiedevano come mai le sue mani apparissero così grandi Negli ultimi giorni il suo nome è apparso sulla bocca di tutti grazie alla sua partecipazione al famigerato festival della musica italiana, ovvero Sanremo Solo poche ore fa il cantante infatti si è esibito sul palco dell'Ariston Incantando Tutti Non è di certo la prima volta che si esibisce sul rinomato palco scenico Lui alle sue spalle infatti ha innumerevoli anni di carriera e si presentò per la prima volta a Sanremo circa 54 anni fa Nonostante gli anni passati e le soddisfazioni ottenute però, sono innumerevoli le emozioni che si provano Lui stesso ha confessato di provare sensazioni indescrivibili Inoltre, bisogna anche tener conto della presenza del pubblico Quest'ultimo infatti sembrava ormai un'utopia, dopo ben due anni di pandemia che ha reso impossibile ogni contatto fisico e sociale Prima ancora di salire sul palco di Sanremo, tempo fa, l'uomo ha deciso di pubblicare uno scatto che lo ritraiva con una pallina in mano Gianna Morandi, svelato il motivo delle dimensioni delle sue mani Sono passati ormai diversi mesi dall'incidente, il cantante ricorda ogni attimo Nonostante questo però non ha mai evitato l'argomento ed anzi ha perfino sdrammatizzato la situazione condividendo qualche scatto sui suoi rispettivi profili social Lui ha sempre cercato in tutti i modi di affrontare la vita con il sorriso anche quando la vita stessa gli ha dato mille motivi per non farlo più Ad ogni modo, uno scatto particolare condiviso sui social ha suscitato l'attenzione dei fan Non è di certo la prima volta che questi si interrogano sulle dimensioni delle sue mani e, questa volta, hanno ottenuto finalmente una risposta Gianni Morandi Mano.Solitamente l'uomo tende sempre a rispondere ad ogni commento dei fan, proprio come ha fatto anche in questo caso L'uomo, mostrando la mano con il palmare, ha deciso di scherzarci su aggiungendo questa descrizione, almeno posso giocare a ping pong senza racchetta Questa frase ha fatto sorridere i numerosi fan che lo stimano e lo seguono da ormai tempo ignoto Alcuni di questi però hanno preso la palla al balzo ed hanno risposto con altrettanta ironia Un utente ha infatti commentato dicendo, ora sì che hai una mano gigante Al che il cantante non ha fatto a meno di rispondere ed ha prontamente risposto al commento dicendo, come dimensioni più o meno ci siamo Un abbraccio. Le sue parole ironiche hanno fatto sorridere l'utente che mai si sarebbe aspettato di ricevere una risposta da lui Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao